Buongiorno a tutti, eccoci qua gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, la nostra rassegna stampa, i titoli dei quotidiani, le notizie del giorno che tra poco leggeremo insieme a voi, ripercorreremo grazie ai servizi di Toscana TV e commenteremo insieme ai nostri ospiti. Buongiorno a tutti, da Andrea Vignolini, è martedì 6 dicembre 2022 e siamo pronti in questa prima parte di Refresh per leggere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura, manovra, gelo di Banca Italia, critiche su contante e stop al reddito, il governo avanti senza polemiche, il sottosegretario Fazzolari, super bonus, niente proroga, Meloni, il PNRR, l'Europa faccia di più, doccia fredda di Banca Italia sulla manovra del governo, criticate le decisioni prese su contante, post reddito di cittadinanza e flat tax, sono contro la modernizzazione e la critica di via nazionale che scatenate le tensioni di serata ha ammorbidito i giudizi. Questo dunque è il punto per quanto riguarda lo sconto dal governo e Banca Italia e lo spiega così il quotidiano del Corriere della Sera. Poi l'intervista con Luca Zaia, governatore del Veneto, autonomia basta tabù, l'autonomia o si fa ora o non si farà più, dice il governatore Zaia, basta tabù, bisogna avere coraggio e sul PNRR spiega i soldi non utilizzati, vadano a chi sa spenderli, questa l'opinione ovviamente di Zaia. E poi quello che accade invece in Iran, il boia per chi protesta, presto le prime impiccagioni, gli arresti e le condanne spiega il Corriere della Sera e ancora a centropagina invece la prima notizia riguarda una notizia di cronaca che arriva dalla Sicilia, Federica e la gara di solidarietà per aiutarla dopo che il pitbull di casa le ha strappato il braccio destro con un morso, un braccio robot in dono, mi ha cambiato la vita, la protesi di Federica creata grazie a una raccolta di fondi, accade in Sicilia, c'è questa storia oggi sul Corriere della Sera. E poi invece la guerra, il conflitto ucraino-russo, raid sul territorio russo, colpiti aeroporti militari e Putin visita la Crimea, vedete Putin con il vice primo ministro sul ponte di Crimea danneggiato da un attentato ad ottobre, questo nella foto sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, anche qua il tema riguarda quello delle tensioni tra Governo e Banca Italia sulla manovra, le mosse del Governo, assalto a Banca Italia è il titolo di apertura, la manovra di Meloni bocciata da Via Nazionale, POS, flat tax e misure sul contante in contrasto con PNRR e lotta all'evasione, il sottosegretario fazzionario attacca, esprime interessi delle banche. La strategia di Palazzo Chigi rispondere colpo su colpo, corruzione nordio, il ministro spiega impunità per chi paga mazzette e collabora, poi vedremo ovviamente anche le reazioni a queste dichiarazioni del Guarda Sicilia. A centro pagina invece la rete italiana della polizia parallela cinese, ne abbiamo parlato più volte anche qua a refresh proprio per il caso che è stato sollevato tra le città italiane in particolare a Prato, poliziotti e carabinieri italiani con gli agenti cinesi in piazza di Spagna a Roma nella foto, ovviamente è una foto che non c'entra assolutamente niente con la notizia che riporta Repubblica, 11 centri illegali, uno di questi è anche a Prato, servono a sorvegliare i dissidenti ma l'informativa invece delle autorità in Italia è quella che non avessero questo compito ma compiti che erano di misure assistenziali di informazione e fiscali, questo sarebbe il punto. Andiamo avanti con invece le prime pagine di oggi e le altre notizie, lo facciamo anche con la prima pagina del quotidiano La Nazione, l'apertura ci porta anche in questo caso al tema del giorno ovvero il gelo governo Banca Italia, così sceglie di triturare la nazione, pagamenti post, dubbi di via nazionale, il contante aiuta l'evasione, replica fazzolari, voi fate l'interesse delle banche, e poi il chiarimento, prezzi alle stelle, salari fermi, italiani in trappola, l'intervista sbarra della CISL, subito meno tasse e buste paga più pesanti. E poi la fotonotizia di oggi secondo La Nazione, Napoli posto fisso per 200 giovani, puliranno le strade, assunti come spazzini, laureati, in festa. Il fascino del posto fisso non tramonta mai a tal punto che a Napoli centinaia di giovani, laureati e diplomati hanno partecipato al concorso per entrare in una partecipata del Comune e ieri sono stati assunti in 200 con tanto di festa insieme al sindaco Gaetano Manfredi. Le mansioni saranno nei turbini, il più giovane ha 18 anni, il primo in classifica e diplomato in sistemi informatici. Lavoro umile? No, spiega, imprescindibile, questo spiega Il Quotidiano, la nazione intervistando ovviamente i neoassunti. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, l'edizione è quella di Firenze, Prato e Empoli, l'apertura Fippi Li Alt al cantiere. Da domani i lavori sospesi per le festività natalizie tra Empoli Est e Montelupo, ripartiranno il 9 gennaio. E poi nel taglio alto il memoriale di Auschwitz tra i rifiuti, Firenze all'Ex-3 doveva nascere un anno fa un museo dedicato al Shoah. Siamo nel quartiere di Gavinana, ma quello che doveva essere il memoriale di Auschwitz è una vera e propria discarica, più tardi vedremo anche le foto. E poi una notizia che oggi commenteremo a lungo, perché ritroveremo ovviamente anche in tutti i quotidiani locali, Firenze, l'appello di un malato di sclerosi raccolto dall'associazione Coscioni. Aiutatemi a morire a casa mia. Massimiliano, 44 anni, malato di sclerosi accanto a suo padre nel video dell'associazione Luca Coscioni. E questa è una notizia sulla quale poi ritorneremo con tutti i quotidiani locali. Andiamo avanti con i quotidiani di oggi. Libero, che titola invece, ci mancavano solo le foto Z di Lady Somaoro. Ora spunta pure un servizio senza veli. Il fotografo voleva andare sui giornali. Ancora il quotidiano Il Giornale, venduti alla Cina da Conte e Gentiloni. Sotto attacco il report in Italia, 11 centri segreti della polizia di Pechino per rimpatriare i cittadini asiatici. Abbiamo ceduto sui diritti e sicurezza per gli affari con il presidente cinese. E poi il titolo invece del fatto quotidiano, Open Renzi, spiattella, un segreto del Copasir. La lettera del PM turco nel libro del senatore che non poteva averla. Di chi è la manina? Si domanda il fatto quotidiano. Nordio invia gli ispettori a Firenze e lui divulga un atto mai depositato. La verità sulla prima pagina. Basta allarmi su Covid e influenza. Zuccotti, responsabile di pediatria del Sacco e del Buzzi di Milano, rassicura. E poi a centro pagina, lei di Somaoro, le foto sexy ai tempi di Palazzo Chigi. Parla il fotografo del servizio chiesto dalla donna nel 2012. Mi disse che aveva legami con la politica. L'anno prima Lilian, col governo Berlusconi, era diventata responsabile dei rapporti con l'Africa e gestiva i profughi arrivati dalla Libia. La cognata ha mai capito che lavoro facesse. Andiamo sulla prima pagina invece del Sole 24 Ore. Il titolo di apertura, super condono per salvare il calcio. Decreto aiuti quarter, scudo penale sportivo più una dilazione in 60 rate di imposte e contributi in un emendamento di partisan alla sospensione del regime sanzionatorio. E poi nel taglio alto, una notizia che ritroveremo anche su tutti i quotidiani, lo smart working proroga in vista per fragili e genitori di under 14. Questo spiega il Sole 24 Ore di oggi. Adesso invece è il momento di scoprire tutto quello che è accaduto in questa giornata. Il 6 di dicembre, oggi è martedì, ma scopriamo i fatti del giorno. Grazie all'Almanacco di oggi. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 6 dicembre, si festeggia San Nicola di Bari. Il nome Nicola deriva dal greco Nike, Vittoria e Laos, Popolo. Significa vincitore fra il popolo. San Nicola è patrono degli avvocati e degli scolari. Dice il proverbio, va al più una casetta e cuor contento che un palazzo pien di vento. Sono nati oggi Antonella Clerici, Giulio Base, Irene Grandi. Il 6 dicembre 1889 viene legalmente riconosciuta l'invenzione della lampadina da parte di Thomas Edison. La rivista Life mise Edison al primo posto tra le 100 persone più importanti, evidenziando che la sua lampada d'incandescenza illumina il mondo. Il 6 dicembre 1975 si svolge a Roma la prima manifestazione nazionale del movimento femminista. E infine il 6 dicembre 2001 esce in Italia il film Harry Potter e la pietra filosofale, tratto dal primo celebre libro della saga di John Rowling. Lil Wayne ha detto Eccoci qua, dopo l'almanacco di oggi andiamo anche alla rassegna stampa sportiva. Il titolo di apertura del Corea dello Sport Stadio è maraviglia. Il Brasile incanta 4 a 1 alla Corea, Neymar arriva a un gol da Pelé. Giappone il sogno svanisce a rigori, dopo l'1 a 1 passa la Croazia. L'assalto dell'asso del Paris Saint Germain a quota 76 reti con i verde oro. Ronaldo oggi la Svizzera, poi la Nassar ovviamente per Cristiano Ronaldo. La Sele Sao vince e vola i quarti, venerdì sfiderà Brozovic e Perisic. Questo per quanto riguarda ovviamente i quarti di finale che sono già decisi. Andiamo avanti anche con il titolo della Gazzetta dello Sport, ovviamente sempre a quanto riguarda le notizie sportive del giorno. Eccolo qua, anche qua. Balla Brasile mondiale, vittoria per Pelé. Un tempo di samba, Sud Corea travolta, ora la Croazia, Neymar. Spero di aver dato conforto a Orei. E poi nel taglio alto invece chi faceva affari con la signora, anche Atalanta, Sassuola e Udinese nella galassia della Juve di Annelli. Queste le nuove intercettazioni per quanto riguarda ovviamente la Juventus e le società che in qualche modo hanno fatto affari con la società bianconera. Ci fermiamo per dare lo spazio da regia dopo questa prima parte di Rassegna Stampa. Torniamo tra poco con tutte le notizie di oggi, soprattutto quelle che arrivano dalla Toscana e da Firenze. Tra poco. Torniamo tra poco. Nasce la pasta tre grani pregiati italiani. Fiorfiore Copp, la nuova grande storia d'amore tra la pasta e il sugo. Per questo è più buona dentro. La Copp sei tu. CNA Formazione Sicurezza promuove corsi del Fondo Sociale Europeo. Le aziende possono investire nelle risorse umane e coloro che stanno cercando lavoro possono collocarsi o ricollocarsi. Sono venuta nella scuola Venere Formazione CNA e mi sono iscritta. E tra un mese prenderò la qualifica di acconciatore. Perché il mio fine ultimo è aprire un salone di parrucchiera per conto mio e realizzare proprio quel sogno di bambina. Iscrizione a Nau. L'Unione fa la cura. Iscriviti alla Nau Assomed. Per dipendenti, servizio sanitario e sanità accreditata, polizza RC colpa grave gratuita. Polizza tutela legale, consulenza legale, l'esperto risponde, banca dati sanità, formazione ECM gratuite. Info e condizioni su anau.it Una casa più grande? Magari un giardino? Ma se perdo il lavoro? Ho un incidente? Oppure? Hai stipulato un finanziamento e vuoi proteggere te o la tua famiglia? Banco Fiorentino ti offre una gamma di soluzioni a tutela del credito, anche in caso di perdita del lavoro. Banco Fiorentino. Al tuo fianco. Sempre. Primi sintomi influenzali? Raffreddore? E C! Vivi in C, con vitamina C per le difese immunitarie, agisce su primi sintomi influenzali e raffreddore. Vivi in C, puoi stare alla larga dagli... E C! Naso chiuso. Prova acqua di Sirmione. Scioglie il muco. Libera il naso. Idrata la mucosa. Elimina virus e batteri. Acqua di Sirmione è da sempre garanzia di efficacia 100% naturale per cura e benessere del naso. Acqua di Sirmione. Una vera forza della natura. Da Menarini. Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili. Il calore naturale per la mia casa. E fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura. Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro. Parcheggio del Serraglio. 400 posti al coperto. Moderno e sicuro. Per auto, moto e bici. Tariffa giornaliera a 6 euro. Tariffa notturna a 1 euro. Aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio. Il tuo parcheggio in centro. Eccoci qua, gentili telespettatori di Firenze TV e Toscana TV. Ben trovati a Refresh. Le notizie di oggi. Abbiamo già letto i titoli sulle prime pagine dei quotidiani. E adesso invece è il momento di leggere le notizie all'interno. È martedì 6 dicembre 2022. Buongiorno a tutti e bentrovati. Partiamo da pagina 2 del Corriere della Sera. L'apertura ci porta alle tensioni tra Banca Italia e Governo. Banca Italia boccia la manovra sul contante e stoppa il reddito. Si rischia di incentivare l'evasione. Il gelo di Fazzolari, poi frenato da Palazzo Chigi. Allora, cosa è successo ieri? L'affondo di Fabrizio Balassone, capo del Servizio e Struttura Economica della Banca d'Italia, arriva durante la sua audizione sul DDL Bilancio. Ieri davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Una relazione che si trasforma però in una bocciatura delle misure più discusse della manovra all'esame della Camera. Dalla flat tax all'inalzamento del tetto al contante a 5.000 euro, allo stop all'obbligo del POS fino a 60 euro. Soglie più alte, puntualizza Balassone, favoriscono l'economia sommersa. Mentre l'uso dei pagamenti elettronici, permettendo il tracciamento delle transazioni, ridurrebbe l'evasione fiscale. Tanto basta per provocare il risentimento del Governo. Peraltro si spiega nell'articolo sul Corriere della Sera di Claudia Voltattorni, che addirittura in commissione erano presenti, nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, erano presenti appena 7 componenti su 50. Intanto, quali sono le tappe per quanto riguarda la manovra? Domani scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra, approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre scorso. L'11 dicembre vengono esaminate le proposte che saranno segnalate e accolte dal Governo, mentre il 12 il Ministero dell'Economia inizierà a valutare gli emendamenti. Il 15 dicembre inizia l'esame del DDL in commissione Bilancio alla Camera. Il 20 il testo può arrivare in aula per essere discusso. Il 31 dicembre è la data limite per ottenere anche al Senato il via libera alla manovra, per evitare l'esercizio provvisorio. E poi, ancora all'interno ovviamente del quotidiano del Corriere della Sera, i tanti temi che riguardano anche alcuni capitoli, punti cardinali della manovra. Uno tra questi è il Superbonus. Siamo a pagina 5 del Corriere della Sera. Nessuna proroga per il Superbonus. La detrazione resterà ma al 90%. La linea al lavoro per semplificare la cessione dei crediti. Salvini, libertà su carte e contanti. Questo spiega il Corriere della Sera. E poi vedete il Superbonus. 110% al 31 ottobre 2022 nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti. 95.230 cantieri aperti. 191.000 nelle villette. 40.552 nei condomini. Questo è il computo dei 326.819 cantieri finora aperti. Poi i punti della manovra. Opzione donna sulla Previdenza. Così si discute sui limiti all'uscita anticipata. Una moltitudine di critiche. Il giro di vite su opzione donna ha sollevato numerosi attacchi verso la norma che introduce la stretta sull'anticipo pensionistico, stabilendo che a beneficiarne saranno appena 2.900 lavoratrici. Nel disegno di legge e di bilancio sono fissate una serie di paletti con l'età minima per lasciare il lavoro che sale a 60 anni, si abbassa a 59 per chi ha un figlio e a 58 dai due figli in su. Ma per accedere al beneficio è richiesto di appartenere a tre categorie. Cargiver, donne con un'invalidità almeno al 74%, oppure terza possibilità, essere state licenziate o lavorare in aziende in crisi. Un parametro circoscritto che taglia fuori moltissime donne, introducendo una, tra virgolette, discriminazione tra lavoratrici con figli e lavoratrici che non ne hanno. Quanto basta per invocare da parte dell'opposizione l'illegittimità costituzionale della norma. Poi il fisco, le cartelle esattoriali, coperture per 1,1 miliardi, difficile andare oltre. E poi i pagamenti, niente obbligo di post, la soglia dei 60 euro e l'ipotesi di scendere a 40. Queste le novità della manovra. Poi due articoli che riguardano la politica, siamo a pagina 11, le opposizioni, l'esorcismo anticorrenti dei candidati alla segreteria del PD, ma le cordate già si schierano il peso dei gruppi di potere nel partito che ha divorato 10 leader in 15 anni. E qual è la mappatura dei toscani? Ovviamente nella corsa alla segreteria del PD, il servizio di Toscana TG che è il numero uno regia. Grazie. La corsa alla guida del PD si fa intensa e con la discesa in campo di Alice Line la sfida con Bonaccini diventa una sorta di bipolarismo che oltre a escludere gli altri competitor come la De Micheli polarizza gli schieramenti. Così come accade con le correnti e i capi bastone a Roma, anche in Toscana si formano gli eserciti. Nutrito fin da subito quello di Bonaccini, soprattutto grazie agli amministratori e all'approdo di Nardella a capo della mozione. Il presidente della regione Emilia Romagna potrà avvantare tra i suoi il collega della Toscana Gianni insieme a gran parte della giunta, ma anche la segretaria del PD toscano Bonafè, così come il suo vice Pescini o una dei papabili a ricoprire quel ruolo, la sindaca di Empoli, Brenda Barnini. Tra gli ex parlamentari figurano Luca Lotti e Caterina Biti, stesso discorso in comune a Firenze dove insieme al sindaco sosterranno Bonaccini, Sara Funaro, Cecilia Del Re, Stefano Giorgetti, Giovanni Bettarini e molti altri assessori. E c'è ovviamente anche il deputato fiorentino Federico Gianassi che potrebbe guidare, insieme al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il coordinamento toscano della mozione. Ma come il Nazareno anche Firenze è divisa, se l'altro deputato a espressione dell'Interland Emiliano Fossi appoggerà invece Lischlein. La truppa per l'appasionaria del PD si ingrossa di ora in ora, anche perché a sostenerla ha molte delle correnti romane che lei vorrebbe abbattere. In giunta regionale saranno Monia Moni e Serena Spinelli a sposare il suo progetto, insieme probabilmente anche ad Alessandra Nardini, che però aspetta l'appoggio ufficiale di Orlando. Nelle prossime ore potrebbero arrivare anche l'assessore alla sanità Bezzini e il capogruppo del PD in consiglio, Vincenzo Ceccarelli. Insieme a lui invece chi ha già sposato la causa sono Jacopo Melio e Francesco Gazzetti, che era anche al Monc di Roma in occasione del lancio ufficiale della candidatura di Schlein. Due per adesso gli assessori fiorentini da quella parte, Andrea Giorgio e Cosimo Guccione, oltre al presidente del quartiere 4 Mirko Dementoni. Tra i volti noti, anche senza un ruolo attivo, ci sono poi l'ex presidente del Corico, Enzo Brogi, e l'ex governatore della Toscana, Enrico Rossi, solo per citarne un paio. Ma la Toscana è grande e presto gli schieramenti saranno ben più nutriti. Intanto però si registra un piccolo caso Prato, dato che se il sindaco Biffoni, anche presidente dell'Anci Toscana, appoggerà senza sé e senza mai il presidente dell'Emilia Romagna, altrettanto farà Ilari Bugetti, consigliera regionale pratese appartenente all'altra anima del PD, nonché riferimento politico di una segreteria locale, che ad oggi appare spaesata sulla strada da prendere. E andiamo avanti invece con quello che accade a proposito di opposizioni dentro il terzo polo. Calenda, obiettivo Forza Italia, la stiamo svuotando, spiega il numero uno di azione, ma non abbiamo intenzione di andare al governo. La replica degli azzurri vaneggia le risposte del forzista Mulè. Calenda è instabile politicamente, prenda un tranquillante, questo spiega il parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè. Andiamo invece al titolo, pagina 25, che è la storia di copertina del Corriere della Sera. Federica e la supermano robot è il mio sogno che si avvera. Palermo, quattro anni fa, aveva perso il braccio, la gara di solidarietà per aiutarla. La sua vita è cambiata in un attimo, un giorno di luglio, di quattro anni fa, quando il Pitbull, che insieme al suo ragazzo aveva deciso di adottare la gredita strappando in un braccio, Federica Aiello, allora aveva solo 23 anni e tanti sogni. Poi ovviamente la protesi che l'è stata installata, vedete l'arto bionico per Federica Aiello è stato realizzato da un'azienda di Enna, la roga che ha 70 dipendenti, le permetterà di muovere tutta la mano, mentre la protesi tridigitale che aveva le consentiva soltanto l'uso di tre dita. Questo spiega il Corriere della Sera. Andiamo invece sul tema dell'energia, pagina 29 del Corriere della Sera, per capire quello che sta accadendo invece in Sardegna. Torri alte 300 metri, le coste sarde contese dai big dell'eolico. I progetti per 1.500 nuove pale. Questo spiega il Corriere della Sera. L'ex sindaco di Alghero ci troveremo di fronte al parco eolico più grande del mondo. Ovviamente si spiega da un lato, vedete quali sono i luoghi dove nasceranno. Sulla rivela del Corallo sono previste 54 pale a Capocaccia e poi a Codrongianos, la basilica di Saccargia, no del Tar alle pale eoliche in questo caso. Andiamo avanti sempre con i titoli di oggi, lo facciamo ovviamente anche con i titoli del quotidiano La Repubblica e le notizie principali che leggiamo all'interno del quotidiano che ci riportano da un lato ai temi della manovra e allo scontro e alle tensioni, diciamo così. Governo Banca Italia, come possiamo leggere a pagina 2, bocciato da Banca Italia, il governo attacca, cura interessi privati. Dal post alla pace fiscale, dalla flat tax al reddito di cittadinanza, via nazionale critica la manovra, il sottosegretario Fazzolari e la voce delle banche l'opposizione insorge, poi la frenata. Vedete anche qua il racconto di Filippo Ceccarelli, le mani della politica su via nazionale, quel vizio antico da Craxi a Tremonti, un scorso storico tutto da leggere di Filippo Ceccarelli. E poi ancora, sempre con invece le altre notizie, a pagina 9 su Repubblica, il ministro Nordio, inutili leggi sulla corruzione, diamo impunità a chi paga e collabora. Il guarda sigilli non serve in aspirire le sanzioni, meglio ridurre le norme e cercare di rompere l'omertà. Spiega l'ex presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, 59 anni, procuratore a Perugia, che spiega che la norma c'è già, ma non ha dato risultati, il reato è grave e le pene restino. Quando passò lo spazio a corrotti, qualcuno si aspettava file di persone pronte a denunciare, ma io non le ho mai viste. No a un'ulteriore riduzione dell'abuso d'ufficio, la carta chiede ai funzionari pubblici di lavorare con disciplina e onore. Poi ancora, quello che sta accadendo invece nella Lega, lo spiega oggi la Repubblica, pagina 11. Lega, voglia di scissione in Lombardia, ribelli con Moratti per indebolire Salvini. L'idea dei nordisti in 5-6, pronti a dare vita a un nuovo gruppo al Pirellone. E quindi c'è aria di scissione all'interno della Lega Lombarda. Andiamo anche a occuparci invece di quello che accade nel PD. Lo fa un'analisi oggi di Stefano Cappellini su Repubblica, Bonaccini e Schlein, opposti complementari, la sfida generazionale e il pallone che li unisce. Spiega Stefano Cappellini, Stefano Bonaccini e Eli Schlein, ordine alfabetico, hanno un grande terreno d'intesa, i piacere di giocare a calcio. Lui l'ha fatto fino a 38 anni, è arrivato in promozione. Lei è uno degli elementi di punta della Nazionale Parlamentari. Fine dell'intese? Dice, ma come? Non hanno pure lavorato insieme in Regione, in Emilia Romagna, dove Schlein è stata la vice di Bonaccini? Sì, il ticket era un'altra prova della loro diversità. Anzi, era studiato e varato proprio per la complementarietà. Cosa serve a Bonaccini per non essere troppo Bonaccini? Schlein. Cosa serve a Schlein per non essere troppo Schlein? Sapete la risposta. Così Stefano Cappellini su Repubblica di oggi. E poi il caso invece delle 100 stazioni di polizia segrete per controllare i cinesi nel mondo. Secondo l'intelligence, in Italia sono 11, Pechino sostiene che gli uffici svolgono pratiche burocratiche ed era quello che era emerso anche a Prato dopo un vaglio delle autorità preposte all'attività di questo ufficio. Abbiamo avuto con noi anche qua a Refresh il sindaco Biffoni che aveva spiegato attentamente che in realtà non si trattava di polizia cinese ma si trattava di uffici che erogavano servizi di varia natura ai cittadini. Ma cosa si spiega? Allora, 102 spiega Repubblica. Le stazioni all'estero, secondo la ONG Safeguard Defenders le stazioni di polizia di Pechino all'estero sono 102. Si tema che servono a spiare i cittadini cinesi. 11 le sedi in Italia, in Italia tra Prato, Firenze, Milano, Roma, Bolzano, Venezia e la Sicilia. La nostra intelligence sta compiendo accertamenti. Allora, andiamo avanti sempre con... Vedete, poi nel taglio basso sbarre alle finestre e vetri scuri. L'ufficio nella Chanatown di Prato abbandonato dopo le polemiche. La targa all'ingresso recita associazione culturale. Tacciono barbiere commesse dai negozi vicini. Non sappiamo nulla. Però quest'ufficio sarebbe stato abbandonato dopo le polemiche. Lo spiega, ovviamente, Andrea Vivaldi su Repubblica di oggi. E poi una notizia che riguarda invece lo smartworking esteso per fragili genitori verso la proroga a marzo. La misura interesserà sia dipendenti pubblici che del settore privato ed entrerà in vigore con il mille proroghe. Andiamo anche invece alle questioni che riguardano lo sport. Da un lato, siamo a pagina 45 di Repubblica. Il ministro Abodi, non solo Juve faremo pulizia, De Laurenti, se il calcio è malato dall'alto. Il ministro dello sport, abbiamo bisogno di sapere al più presto cosa sia successo per ridare credibilità al sistema. Ma intanto c'è polemica in questo riquadro di Repubblica. Inter, sei gol all'Ogzira United, 2,29 euro per vederli su Facebook. Cioè i tifosi dell'Inter hanno dovuto pagare 2,29 euro per vedere l'amichevole contro l'Ogzira United in diretta su Facebook. Questo solleva molte polemiche. Poi invece un addio a un grande dello sport, Nick Bollettieri. Addio Bollettieri, il maestro geniale che insegnò il tennis ad Agassi nel Sovacademy in Florida. Sono passati Courier, Sampras, Selle, Le Sorelle Williams. Ha praticamente stato coach di 12 numero 1 delle classifiche del tennis. E ovviamente dopo una lunga malattia è deceduto. Andiamo avanti con le notizie di oggi. Lo facciamo anche con i titoli del quotidiano La Nazione e ovviamente le principali notizie del giorno. Da un lato ci si occupa anche molto diciamo così delle notizie che riguardano i pagamenti col post. Però vedete Bancomat e Carte commissioni scese al 2% ma ai negozianti non basta. Agli esercenti il post può costare 3.700 euro all'anno solo vantaggi per i clienti e intanto l'altitrust blocca gli aumenti per i contanti di prelievi dagli ATM. Queste sono ovviamente alcune tematiche che riguardano in questo momento i costi di Bancomat e Carte lo spiega molto bene oggi a pagina 3 La Nazione. A pagina 4 invece nella morsa del carovita spesa sempre più cara e salari fermi la tempesta che ci svuota le tasche. Anche Banca Italia lancia l'allarme con la flat tax e gli effetti di inflazione penalizzano lavoratori dipendenti il carrello della spesa è aumentato del 13% e per il 2023 la grande distribuzione prevede il rialzo dei prezzi. La stangata si legge il carrello della spesa aumenta i medi più 52,3% l'olio di semi più 29% la margarina più 48% lo zucchero più 23,5% la farina più 41,7% il burro più 21,6% le uova e ancora vedete gli aumenti sono tutti a doppie cifre per quanto riguarda prezzi di generi alimentari che praticamente sono nel carrello della spesa degli italiani. La fonte di questi dati è col diretti mentre per quanto riguarda l'inflazione vedete rispetto all'anno prima siamo all'11,8% tra ottobre e novembre non c'è stata variazione l'Italia è il paese europeo che in questo momento diciamo così registra fa più fatica degli altri a uscire dall'aumento dell'inflazione la ricetta della CISL meno tasse sul lavoro e controllo dei prezzi così alziamo i redditi il segretario sbarra patto anti-inflazione tra sindacati imprese e Stato a zerare l'IVA per i beni di prima necessità bisogna rilanciare i consumi poi gli ospedali in affanno medici a gettone 1000 euro per una notte e in corsia è il far west spiega la nazione sempre più asa si rivolgono alle cooperative con compensi triplicati e molti camici bianchi si dimettono dal pubblico per lavorare con i privati blitz del NAS scoperti 165 irregolari operativi nelle strutture sanitarie e poi ancora sempre all'interno ovviamente della nazione siamo a pagina 13 dopo gli scandali Renzi e il calcio malato niente soldi per la A aiutiamo le giovanili il leader di Italia Viva stronca i provvedimenti per soccorrere le settore in crisi mi rivolgo a Dameloni abbiamo una manovra che aumenta la benzina non possiamo spendere denari e ripianare i debiti delle grandi società e poi la fotonotizia in prima pagina sulla nazione a pagina 19 Napoli felici e sistemati quel posto fisso da spazzino laureati in festa per l'assunzione cerimonia e fotoricordo col sindaco nella sala d'onore del comune una scena da film di Zalone spiega Nino Femmiani sul quotidiano nazionale di oggi il dipendente più giovane a 18 anni il primo classificato in gradatoria è un diplomato in servizi informatici e vedete ovviamente la foto tutti assieme e poi una notizia che adesso farà molto discutere nella cronaca locale si riapre il dibattito sul fine vita perché parte da Firenze ma poi ovviamente il dibattito è un dibattito diciamo così che riguarda tutto il tutto il paese voglio morire in Italia a casa l'ultima battaglia di Massimiliano toscano 44 anni malato di sclerose multipla sogno di andarmene con dignità ma serve una legge questo spiega nella sua intervista a Maria Nudi oggi ovviamente Massimiliano domanda Massimiliano la sua storia e soprattutto la sua testimonianza vogliono essere un nuovo apripista dopo il caso di Davide Trentini per chi vuole lasciare questo mondo con dignità è così che voglio andarmene con dignità ci dice e voglio uscire da questo tunnel che non mi permette di vivere in maniera autonoma non posso più fare quello che una volta mi piaceva fare ero un manutentore con le mie mani aggiustavo tutto quello che andava riparato tutto oggi non sono più in grado di fare nulla la malattia degenerativa me lo impedisce la mia condizione può soltanto peggiorare non c'è alternativa e quando dice così il tono di voce deciso perentorio non lascia spazio a interpretazione quando ha deciso che era giunta l'ora di andarsene l'ho deciso un anno fa anzi poco più di un anno fa e mi sono messo da ricerca di quale via di uscita ci potesse essere in Italia per chi non è dipendente da trattamenti sanitari di sostegno e vitali non ci sono alternative non esistono così mi sono rivolto all'associazione Luca Coscioni precisamente a Marco Cappato che ammiro molto ed eccomi qua e Massimiliano racconta ovviamente la sua storia andiamo avanti sempre con le notizie di oggi e partiamo con la Nazione di Firenze l'apertura al gelo gli studenti dell'Accademia riscaldamenti ancora spenti nelle aule perché il contratto non è stato rinnovato scatta la protesta gli allievi coprono le statue con i cappotti il direttore hanno ragione valutiamo di interrompere le elezioni e poi la fotonotizia così muore una disperata trovata senza vita a 40 anni in una tenda al Ponte all'Indiano Funaro vicenda triste non ha voluto farsi aiutare spiega l'assessore al Comune di Firenze assessore al welfare andiamo a pagina 2 muore a 40 anni in tenda malata al freddo di notte in un giaciglio di fortuna sotto il Ponte all'Indiano la vittima soffriva di insufficienza renale e si era sottoposta alla dialisi visite e terapie a Careggi e Santa Veranova l'allarme dato dal compagno il Comune i servizi sociali e Fenice l'avevano aiutata ai passaggi fiorentini della donna ai tentativi di avviare percorsi di accoglienza poi ancora all'interno ovviamente della Nazione a pagina 3 la cronaca falciata sui binari pioveva attraversato impatto inevitabile traffico ferroviario in tilt badante di 48 anni era scesa alle sieci da un altro convoglio non ha calcolato la distanza dal treno in arrivo a causa della pioggia si esclude il gesto volontario è stato un incidente poi a pagina 4 invece la rivolta studentesca riscaldamenti spenti la situazione è invivibile ci stiamo ammalando gli studenti manifestano tutta la loro insoddisfazione per la mancata accensione dei termosifoni all'interno dell'Accademia il direttore stiamo facendo il possibile per sbloccare la situazione e poi vedete il cortile dell'Accademia durante le proteste dunque gli studenti dell'Accademia di Belle Arti sono al freddo poi ancora il punto su PNRR PNRR entro fine anno 88 gare il piano di Palazzo Vecchio per non perdere i finanziamenti ecco su questa notizia ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 4 regia grazie al momento io sono qui in Consiglio Comunale per esporre il nostro programma di lavoro e posso dire che siamo in linea con i tempi fissati dall'Unione Europea quindi non so che tipo di problemi abbia il governo spero che non usi certi argomenti come alibi per giustificare delle inefficienze o delle lentezze delle strutture ministeriali noi comunque stiamo facendo uno sforzo in mane entro la fine dell'anno quindi entro i prossimi 25 giorni noi completeremo un piano di 88 gare per un totale che supera 800 milioni di euro il volume totale di progetti che noi realizzeremo con il PNRR tra Comune di Firenze e Città Metropolitana supera i 2 miliardi di euro e ad oggi possiamo dire che se non ci saranno sorprese se il governo non ci farà delle sorprese o non ci bloccherà o ci rallenterà noi entro la fine dell'anno prossimo quindi entro la fine nel 2023 appalteremo tutte le gare e quindi partiremo con i lavori ora tra quelli più importanti di queste settimane completeremo la gara per le tramvie le linee tramvie che ci rimangono la linea di Bagnarripoli e la linea 4 lo stadio come sappiamo stiamo anticipando la piscina di San Bartolo che è cofinanziata con la regione e la scuola Ghiberti sono tutte opere che richiedono in certi casi decine decine di milioni di euro in qualche caso qualche milione di euro il costo delle materie prime non preoccupa? questo è il punto noi siamo riusciti a utilizzare tutti i tre filoni di finanziamento che il governo Draghi negli ultimi giorni di permanenza ha lanciato con le variazioni dei prezzi cioè abbiamo utilizzato le risorse aggiuntive che l'ultimo governo ci ha messo a disposizione per far fronte agli aumenti delle materie prime all'inflazione questo per esempio per lo stadio siamo passati a 157 a quasi 200 milioni di euro ma anche per altre infrastrutture io credo che se il governo vuole può recuperare i tempi anche perché c'è un regolamento adottato dalla Commissione Europea approvato da tutti i membri del Consiglio Europeo che stabilisce che si può modificare il PNRR solo se ci siano delle condizioni strutturali queste condizioni strutturali al momento non si vedono se non un ritardo di 3-4 mesi dovuto appunto alle elezioni ma non è un argomento che si può usare allora saluto Giovanni Donzelli parlamentare dei Fratelli d'Italia responsabile nazionale organizzazione del partito buongiorno e benvenuto onorevole buongiorno buongiorno a tutti voi non so se vuole rispondere alle dichiarazioni di Nardella sul PNRR che presumo abbia sentito perché era collegato sì no ma sono legittime dichiarazioni di chi è in campagna elettorale per le primarie del partito democratico e non più in prima persona in sostegno ad altri quindi ha bisogno di sollevare polemica col governo per motivi interni per anche coprire diciamo così le difficoltà del partito democratico ma noi non interessa fare polemica a noi interessa dare le risposte agli italiani il nostro compito adesso non è quello di metterci a fare polemica con Nardella ma è quello di ovviamente riuscire a dare le risposte che tutti si attendono a partire dal PNRR ovviamente bene quindi vuol dire che il governo centrarà gli obiettivi e non ci saranno ritardi Nardella può stare tranquillo questa è la questione il governo farà tutto il possibile per recuperare i ritardi creati dai governi in cui c'era anche il partito democratico ce la faremo ci sono dei ritardi infrastrutturali pesanti organizzativi e penso anche ai limiti che ci possono essere in caso di ricorsi perché non è mai stata fatta la riforma alla giustizia che avevano promesso di fare penso alle difficoltà delle strutture dove per una vita hanno negli ultimi anni hanno diciamo così sovvenzionato la burocrazia invece che snellito la burocrazia certamente ci sono delle difficoltà importanti nel frattempo ci sono delle questioni delle congiunture internazionali che non erano previste quando c'è stato quando è stato fatto il PNRR era un'altra epoca politica fa non c'era stata la guerra in Ucraina non c'era stata questa impennata dei prezzi delle materie prime non c'era questo costo dell'energia c'erano altre emergenze sono cambiati i tempi sono aumentate le difficoltà già il governo precedente noi quando eravamo all'opposizione dicevamo che erano in ritardo rispetto a quanto annunciavano adesso noi stiamo provando a rimediare a tutti questi errori senta allora andiamo a pagina 2 del Torriere della Sera Banca Italia boccia la manovra su contante stop a reddito ieri l'affondo di Fabrizio Balassone capo del servizio struttura economica della Banca d'Italia durante l'audizione in commissione bilancio di Camera e Senato dove peraltro c'erano appena 7 componenti presenti su 50 e praticamente diciamo le frasi soprattutto sull'uso dei pagamenti elettronici sulle soglie alte del contante che hanno generato un po' di tensione con Banca Italia oggi peraltro su Repubblica Filippo Ceccarelli spiega che non è la prima volta che succede nella storia politica istituzionale italiana lo spiega le mani della politica su via nazionale quel vizio antico da Craxi e Tremonti lei che insegnamento ha tratto da queste tensioni di ieri se ci sono state tensioni i giornali dicono di sì guardi non ci sono né tensioni né insegnamenti Banca Italia legittimamente dice le proprie opinioni sulle grandi scelte della politica legittimamente la politica deve fare quello per cui si è impegnata con gli italiani essendo in democrazia quindi banalmente i nostri datori dobbiamo tenere conto e prendiamo ascoltiamo con interesse rispetto e autorevolezza le importanti dichiarazioni Banca Italia ma poi dobbiamo fare quello per cui ci siamo impegnati con gli italiani quindi se Banca Italia i vertici Banca Italia sono contrari per esempio alla flat tax o all'abolizione del reddito di cittadinanza è una loro opinione legittima però ecco noi ci siamo impegnati in campagna elettorale a fare altre quindi dobbiamo fare quello per cui ci siamo impegnati Banca Italia non ha espresso preoccupazioni su alcune misure economiche sulla sua funzionalità o stabilità o coerenza con gli impegni europei ha espresso delle opinioni diverse dalle nostre su quello che era il nostro programma elettorale e quindi su questo mi permetto di dire che purtroppo pur avendo noi il massimo rispetto per Banca Italia in democrazia dobbiamo ascoltare quello che hanno scelto gli italiani Seta onorevole un po' di cose la prima ora abbiamo anche un servizio che abbiamo fatto cioè ci sono i sindaci che in questo momento protestano in modo molto chiaro e preciso perché ci sono ristori irrisori sul caro energia per le bollette dei comuni che hanno dovuto fronteggiare proprio per l'innalzamento dei costi di energia ecco su questo come rispondete perché anche voi avete sindaci in Italia guardi sì ovviamente è chiaro quando sei a fare una manovra finanziaria non sto a ripetermi però fatta in 30 giorni e quindi ben impostata da altri in cui uno prova a fare qualcosa ma ovviamente non è questa la manovra finanziaria che vogliamo realizzare quando sei a farla in un momento di crisi internazionale ed economica in questo modo tutti chiedono qualcosa in più quindi c'è giustamente comprensibilmente Confindustria che chiede di più per gli industriali la CGL che chiede di più per gli operai i sindaci che chiedono di più per i comuni le province che chiedono di più per le province e i geometri che chiedono di più per i geometri normale è giusto perché hanno ragione la cosa tranne la CGL che è un po' strumentale ideologica gli altri hanno tutti ragione serve di più all'Italia ne siamo consapevoli per fortuna abbiamo davanti 5 anni e non 25 giorni come miracolosamente siamo riusciti a fare questa manovra e su questo lavoreremo nei 5 anni per dare tutto quello che serve in più all'Italia certamente mi fanno sorridere quelli di sinistra che dicevano che non riuscivamo a far nascere almeno il governo che era impossibile fare una finanziaria in così poco tempo che era impossibile portarla alla camera nei tempi previsti abbiamo fatto il governo nei tempi giusti fatte la finanziaria non c'è stata la tempesta sui mercati che tutti assicuravano se arrivava la melonia al governo lo spread è tra i più bassi nella storia degli ultimi decenni quindi andiamo avanti con serenità e determinazione allora una cosa volevo sentirla su questo onorevole perché siamo a pagina 20 di Repubblica di oggi 100 stazioni di polizia segrete per controllare i cinesi nel mondo allora il caso è quello della cosiddetta tra virgolette polizia cinese è stata anche diciamo così attenzionata una sede possibile a Prato le autorità competenti hanno detto che in realtà era un servizio in cui si svolgevano servizi ai cittadini secondo la NOG spiega oggi Repubblica Safeguard Defenders queste stazioni di polizia tra virgolette servono a spiare i cittadini cinesi in Italia ce ne sono 11 e il caso di Prato è questo sbarre alle finestre e vetri scuri l'ufficio nella China Town di Prato abbandonato dopo le polemiche qua avevamo avuto anche il sindaco Biffoni che aveva detto no ma io ho avuto rassicurazione dall'autorità che mi hanno detto che in realtà facevano dei servizi ai cittadini e non altro ora capisce che il caso si ripropone nuovamente forse sarà il caso che l'intelligence fornisca documenti chiari e precisi stavolta se si può parlare tra virgolette di polizia cinesi o meno però il caso sarebbe gravissimo senza dubbio su questo è necessario fare tutto il possibile per evitare un isolamento preoccupante che c'è da sempre nelle comunità cinesi in Italia il caso di Prato ma anche dello smannoro San Donnino noi più volte l'abbiamo documentato in prima persona quindi sappiamo benissimo quanto siano realtà anche chiuse che hanno delle loro regole che sono allergiche al rispetto delle nostre regole quindi anche delle nostre istituzioni hanno le loro banche hanno i loro servizi di controllo la loro polizia hanno i loro medici le loro medicine i loro campi di agricoltura abbiamo dimostrato insieme vi ricordate siamo andati nelle loro serre in cui coltivano i loro prodotti con i loro semi con i loro concimi tutte cose che non rispettano minimamente quelle che sono le nostre regole è necessario intervenire sul tema della polizia c'è anche un serio problema di sicurezza nazionale nel senso che per carità tutti assicurano che stiano controllando la comunità cinese ma insomma ecco si tratta comunque di situazioni non consentite le presenze istituzionali straniere nel nostro territorio sono ben regolamentate devono essere dentro le ambasciate consolati non possono esserci presenze istituzionali segrete all'interno del nostro territorio di nessuna nazione ancora meno di una nazione che diciamo non ha i nostri stessi valori democratici allora onorevole volevo chiudere con lei su un tema preciso subito che esce dallo steccato della politica entra fortemente in quello della coscienza però l'intervista di oggi colpisce moltissimo la troviamo a pagina 20 della Nazione la notizia arriva da Firenze si riapre il dibattito sul fine vita voglio morire in Italia a casa la battaglia di Massimiliano toscano 44 anni malato di sclerosi multipla sogno di andarmene con dignità ma serve una legge e racconta la sua storia Massimiliano e dice oggi non sono più in grado di fare nulla la malattia degenerativa me lo impedisce e la mia condizione può soltanto peggiorare non c'è alternativa questo spiega questo uomo di 44 anni ecco le domando è all'ordine del giorno una legge sul caso del fine vita oppure secondo lei in questo momento si può escludere a priori nessuna delle due non è all'ordine del giorno perché all'ordine del giorno c'è la finanziaria e i tempi strettissimi già per questo da qui alla fine dell'anno il Parlamento è libero di fare proposte che verranno valutate a differenza della legislatura precedente la maggioranza non ne farà mai un caso di divisione o di bandiera noi abbiamo rispetto per le opinioni di tutte ovviamente bisogna anche distinguere fra il fine vita l'omicidio del consenziente ci sono tante tante sfumature quindi la dignità della vita è un tema molto molto serio la dignità e il rispetto della vita sono dei temi che non vogliamo in nessun modo inserire nel lagone dei litigi politici non sarebbe dignitoso nei confronti di chi si pone davanti a dilemme così importanti comunque diciamo non è in scadenza breve però non abbiamo preclusioni se qualcuno vuole portare delle leggi in Parlamento verranno affrontate seriamente grazie all'onorevole Giovanni Donzelli che è stato con noi grazie mille buona giornata buon lavoro grazie a tutti grazie allora andiamo avanti con le notizie di oggi prima però ci fermiamo per dare lo spazio alla regia e poi torniamo tra pochissimo qua a Refresh un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli il traffico si sta intensificando su strade autostrade della Toscana in A1 rallentamenti per lavori in direzione in sud tra Via 1 variante Calenzano in A11 per traffico rallentamenti verso Firenze tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 in Sipiri possibili disagi per lavori tra Empoli Est e Montelupo nelle due direzioni siamo al traffico urbano di Firenze per quanto riguarda i lavori tramviari per la linea fortezza San Marco sono entrati nel vivo i lavori al centro di Viale Lavagnini tutti i dettagli e i provvedimenti di mobilità sui nostri canali social Muoverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana città metropolitana di Firenze e comune di Firenze per ora è tutto buon viaggio per la regione Toscana Info nasce la pasta tre grani pregiati italiani Fior Fiore Cop la nuova grande storia d'amore tra la pasta e il sugo per questo è più buona dentro la Cop sei tu primi sintomi influenzali raffreddore e C Vivi in C con vitamina C per le difese immunitarie agisce su primi sintomi influenzali e raffreddore Vivi in C puoi stare alla larga dagli e C naso chiuso prova acqua di Sirmione scioglie il muco libera il naso idrata la mucosa elimina virus e batteri acqua di Sirmione è da sempre garanzia di efficacia 100% naturale per cura e benessere del naso acqua di Sirmione una vera forza della natura da Minarini una casa più grande magari un giardino ma se perdo il lavoro ho un incidente oppure hai stipulato un finanziamento e vuoi proteggere te o la tua famiglia Banco Fiorentino ti offre una gamma di soluzioni a tutela del credito anche in caso di perdita del lavoro Banco Fiorentino al tuo fianco sempre Gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV ben trovati a Refresh i titoli dei quotidiani di oggi la cronaca locale con il Corriere Fiorentino lo ricordiamo è martedì 6 dicembre 2022 di nuovo buona giornata a tutti e il titolo ci porta alla rincorsa del PNRR 88 gare in 40 giorni Nardella a Firenze né ritardi né carenze di fondi poi attacca il governo non usi alibi la relazione del sindaco in consiglio appalti per 800 milioni se non ci ostacolano entro fine 2023 partiremo con i lavori poi il sovrintendente del maggio Fratelli d'Italia Pereira ha appaltato il teatro a un'agenzia e lui gravi insinuazioni e poi la rivoluzione degli orari a gennaio la Mercafir cambia l'annuncio lo stop del comune a centropagina di rinvio e rinvio ancora un anno senza la specola il museo dell'università è chiuso da settembre 2019 e poi nel taglio basso riparte la protesta licei occupati all'alba al al Michelangelo e a Rodolì collezioni ferme trattativa all'Alberti Dante poi l'autogestione questo spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino andiamo all'interno del Corriere Fiorentino con questa notizia che riguarda il museo della specola un altro anno senza il museo della specola la riapertura entro il Natale del 2023 chiuso nel 2019 il nuovo museo doveva essere inaugurato in un anno e mezzo così non è stato il museo di storia naturale della specola è stato chiuso del primo settembre 2019 per lavori di restaro la sua riapertura era fissata per il 2021 poi lo slittamento agosto di quest'anno infine il nuovo termine fissato per la seconda metà del 2023 andiamo avanti sempre con i titoli del quotidiano il Corriere Fiorentino con il fatto diciamo quello che accade a Siena gli invisibili al gelo sotto la stazione insieme ci difendiamo da freddo Goulam, Sayed e gli altri del Pakistan a Siena all'aiuto di Caritas e di Ocesi non basta così il Corriere Fiorentino entriamo anche nell'edizione di Firenze del Tirreno che ci porta invece al Memoriale di Auschwitz abbandonato tra i rifiuti il cantiere è aperto nel 2020 doveva chiudere un anno fa all'interno dell'X3 a Gavinana dove deve nascere un museo dedicato alla Shoah con un'opera realizzata nel 1979 dai deportati Palazzo Vecchio quel materiale verrà portato via mercoledì il ritardo è dovuto all'aumento dei costi e poi Ferragamo 1000 euro per le bollette stanzi a un fondo straordinario per aiutare 760 dipendenti appartengono alle fasce di reddito più esposte all'aumento generale dei prezzi e dunque Ferragamo è una delle imprese che in questo momento sostiene direttamente i propri dipendenti e poi una curiosità che riguarda le luminarie austerity sulle luminarie di Natale il comune le accende 5 ore in meno Firenze si prepara a far festa risparmiando il taglio sulla corrente è del 33,6% e poi una curiosità che riguarda i monumentali condottieri che tornano a splendere in Duomo rinati i simboli della Firenze repubblicana via i ponteggi all'interno di Santa Maria del Fiore dunque tornano visibili in Duomo i due grandi affreschi dei condottieri simbolo dell'affermazione repubblicana della città di Firenze monumentali ritratti uno accanto all'altro benché poi staccati e riposizionati nel corso dei secoli i due capolavori di Paolo Uccello e Andrea del Castagno che ritraggono Giovanni Acuto italianizzazione dell'inglese John Hackwood e Nicolò da Tolentino sono delle meraviglie che si possono di Santa Maria del Fiore dal 17 dicembre quando saranno rimossi i ponteggi andiamo avanti sempre con i titoli di oggi a Prato con il quotidiano ovviamente il Tirreno di Prato il Guardian e la CNN riaccendono i riflettori sul posto di polizia cinese secondo la ONG Safeguard Defenders sono oltre 100 gli uffici sospetti nel mondo ma dopo i controlli non emergono ufficialmente attività illegali a Prato questo spiega diciamo il quotidiano il Tirreno andiamo a Empoli invece dove ci si occupa della Fipili domani torna libera cantiere smantellato per Natale sospensione dei lavori tra Empoli Este e Montelupo fino al 9 di gennaio e poi invece le difficoltà vedete per l'aumento delle materie prime siamo nel comprensorio del cuoio in particolare a Montopoli Valdarno l'aumento dei prezzi fa slittare il cantiere della scuola di Marti il nuovo cronoprogramma illustrato dalla giunta alle consulte andiamo a Grosseto sotto sequestro il negozio bruciato e intanto parte una raccolta fondi ieri vi abbiamo dato notizia appunto di questa cappelleria storica che è andata diciamo così dove sono divampate le fiamme a causa di una stufetta l'aria è transennata indagini in corso aperta l'ipotesi di incendio colposo l'amministrazione esprime solidarietà alle persone colpite dal rogo e vicinanza al titolare dell'attività andiamo avanti sempre con i titoli di oggi siamo all'edizione di Piombino del Tirreno memorandum di promesse la maggioranza contro l'appello dei 300 il sindaco di Piombino Francesco Ferrari e la sua giunta hanno dato un mandato per ricorrere altare e bloccare il via libera rilascio al progetto però ci sono 300 firmatari di un appello per il lavoro e lo sviluppo in merito al progresso rigassificatore e alla questione delle opere previste nel memorandum questo non piace alle forze di maggioranza intanto i comitati vogliono un'assemblea per rilanciare la protesta oggi alle 17 al centro giovani di Piombino a Viareggio caro bolletti ai dipendenti un bonus da 500 euro Next Yacht Group ha accolto la richiesta della FIOM CGL spiega ovviamente il Tirreno andiamo avanti sempre con le notizie di oggi lo possiamo fare anche con le edizioni locali della Nazione eccoci qua la fotonotizia a centropagina l'ultima carezza di Gianna Nannini la rockersenese manda un messaggio al padre Caterina sarà sempre dentro di me questa notizia che troviamo poi all'interno dell'edizione di Arezzo della Nazione la rockersenese ha registrato un messaggio per Cristina e Gabriele dopo la morte della figlia nuovo segno della vicinanza a mamma coraggio sua fan posso immaginare come vi sentiate porterò la bimba sempre con me spiega Gianna Nannini nel suo video messaggio e poi invece la nazione di Empoli crisi e bollette calano le imprese i dati della camera di commercio nell'Empolese Valdelsa è il trend peggiore di tutta la provincia di Firenze ed eccoci qua vedete l'articolo poi all'interno crisi e bollette calano le imprese si soffrono manifatturiero e commercio i dati della camera di commercio nell'Empolese Valdelsa è il trend peggiore di tutta la provincia di Firenze andiamo avanti ancora sempre con i titoli dei quotidiani locali della nazione lo facciamo con l'edizione della grande costa di Grosseto accusò il sindaco condannato per costagli due anni e tre mesi di risarcimento da 80 mila euro aveva diffamato Benini parlando di voto di scambio e poi stressati dal risparmio la fotonotizia a centropagina per 8 grossetani su 10 la gestione del denaro provoca ansia a Lucca Kiss Alzheimer Not Super Rock è il titolo ovviamente della nazione di Lucca intanto per i Blair già 18 mila biglietti e poi nel taglio alto Puccini terremoto nel comitato si dimette il tesoriere già sostituito in polemica con Veronesi e Raspini va all'attacco Pardini batta un colpo poi ancora Massa Carrara disabile violentato giovane nei guai l'alluese si trova davanti al gruppo del tribunale di Verbania con un complice accusati anche di estorsione e poi a Pistoia Montecatini SS ospedale controlli di sicurezza richiesti alla SAT dopo il caso dei pannelli a rischio incendio i sindacati ora un incontro con l'ASL questo spiega Pistoia Montecatini andiamo su notiziediprato.it i pannelli di rivestimento del Santo Stefano potrebbero non essere a norma si riprende dunque questa notizia ovviamente su notiziediprato.it l'ospedale di Prato insieme a quelli di Pistoia Lucca e Massa sono citati nella relazione che i vici del fuoco hanno consegnato alla procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio che il 29 agosto 2021 distrusse completamente la torre dei Moro e dunque questo ovviamente il titolo poi a Prato tasse e multe ecco 3.000 cartelle entro la fine dell'anno arriveranno avvisi di pagamento ingiunzioni e sori per un totale di 3 milioni di euro e poi ospedale sotto assedio influenza in un giorno 125 assesi in pediatria anche il pronto soccorso soffre nelle scuoli classe decimate per le assenze di professori e alunni e poi la nazione di Siena Siena ha già vinto sul biotecnopolo parla Rino Rappoli direttore scientifico del centro con sistema più forte dialogo con le imprese e Ateneo e poi la morte di Ryan la caduta non c'era l'autopsia secondo quanto riferito dei familiari e compaesani ha dato alle prime risposte la verità tra 60 giorni chiudiamo con via Reggio e Versilia tutti a letto con l'influenza è la fotonotizia a centro pagina Bundi contagi il presidente dell'ordine dei medici ma la vera malata è la sanità territoriale e poi la notizia un super bancario al Pucciniano 2024 Giovanni Busso nominato tesoriere al posto del professor Bellini che ha lasciato per i contrasti con Veronesi saluto in collegamento con noi Gianni Lorenzetti sindaco di Montignoso presidente della provincia di Massa Carrara e presidente di UPI Toscana buongiorno e ben trovato sindaco grazie per essere con noi buongiorno buongiorno a tutti e eccomi qua allora no l'ho chiamata perché diciamo che ho voluto fare questo collegamento con lei perché volevo capire diciamo in questo momento quale posizione avete dopo che come UPI ovviamente e lei anche come presidente di provincia dopo che il ministro Calderoli ha diciamo così più che ipotizzato un ritorno delle province quindi con gli enti con gli enti veri e propri che tornano con i loro consigli e presidenti eletti dai cittadini ecco questo vorrei capire diciamo innanzitutto se siete favorevoli a questa a queste ipotesi o contrari e poi parliamo di quello che c'è da fare perché sarà molto da fare in questo senso prego sindaco sì allora noi abbiamo accolto molto favorevolmente ovviamente la proposta del ministro Calderoli finalmente sono anni che è in gestazione la riforma del Tuel con varie proposte mi pare che questo governo abbia colto l'essenza e dell'importanza delle province in Italia e si sta prestando a varare una riforma tra l'altro un po' differente anzi diciamo sostanzialmente differente da quella che era in gestazione verso il ministero degli interni perché sarà ovviamente una riforma che riporterà l'elezione diretta del presidente di provincia e del consiglio provinciale e quindi lì davvero quindi ritorniamo alle origini è chiaro che il tutto dovrà essere valutato dovrà essere vagliato nel senso che noi oggi siamo in questi anni abbiamo depauperato un patrimonio soprattutto di uomini e di donne che sono andati a lavorare in altri enti sono andati a lavorare in regione sono andati a lavorare nei tribunali sono andati a lavorare nei comuni quindi davvero oggi troviamo pochissime competenze con pochissimo personale ed è chiaro che un ritorno all'elezione di primo livello dovrà seguire anche una scelta chiara precisa delle funzioni delle risorse sia umane che finanziarie per poter garantire i servizi ai cittadini Lorenzetti però lei ha detto finalmente perché ha detto finalmente perché dopo quello che è successo col governo Monti perché quel finalmente guardi guardi sono anni io sto nel direttivo nazionale di UPI ormai dal 2018 quindi sono oltre 4 anni che vedo da parte dei vari governi che si sono succeduti la volontà di fare una riforma ma perché guardi al netto di tutto dopo il referendum nel 2016 dove si è sancita l'esistenza delle province poi chiaramente per far cambiare idea anche all'interno dei vari partiti è stato complicato complicato davvero e sono arrivate diverse proposte diverse proposte di riforma del Tuel sono state portate da diversi partiti sono state portate da diversi ministri però sono rimasti sempre nel cassetto del ministro degli interni forse la Lamorgese l'anno scorso ha provato a portarla nel consiglio dei ministri senza successo quindi dico finalmente perché sono anni che si vive tra l'altro in una situazione paradossale anche di incertezza di fatica di disorganizzazione anche politica istituzionale cioè lei pensi che il presidente della provincia sta in carica quattro anni e il consiglio provinciale ogni due c'è una sorta di elezioni di mezzo termine che vengono fatte come negli Stati Uniti d'America diciamo così i consiglieri il presidente si può candidare se ha davanti ancora almeno 18 mesi di mandato altrimenti non si può candidare quindi veramente un disastro ecco è stato in questi anni chi ha retto hanno retto il presidente i consiglieri per gran parte del tempo addirittura anche senza emolumento quindi senza stipendio i consiglieri tutt'oggi partecipano ai consigli all'attività politica e amministrativa delle province senza indennità e poi ci sono ovviamente i dirigenti pochissimi e funzionari che sono quelli che hanno tenuto in piedi le province con delle responsabilità incredibili allora preciso ai telespettatori che lei tutto questo lo dice da amministratore del Partito Democratico io ho sempre letto qualche suo intervento diciamo così l'ho trovata sempre molto franco diretto preciso poi ieri ho capito perché ci siamo conosciuti mi ha spiegato che è imprenditore quindi ho capito la questione però detto questo volevo capire invece lei che pensa attualmente della corsa alla segreteria del PD con chi sta se sta con qualcuno con Bonaccini con la Schlein con qualcun altro che fa cioè come vede il futuro del PD oggi? ma guardi intanto che si sia aperta una discussione il congresso è chiaro è sempre una cosa positiva voglio ricordare un po' a tutti che forse il PD è l'unico partito seppur con grande fatica che con cadenza di quadriennale comunque fa un congresso non ogni tanto negli altri movimenti o partiti nasce un modo ma insomma mi sembra che lì i segretari siano segretari sostanzialmente a vita mentre noi una discussione la facciamo forse anche troppa certo che abbiamo da affrontare un periodo nuovo complicato veniamo da anni in cui si sono state scissioni Renzi è andato ha formato Italia Viva un pezzo della sinistra del PD articolo 1 quindi abbiamo anche avuto momenti complicati finalmente oggi c'è un congresso io ancora non ho deciso sto valutando con molta attenzione quelle che sono le proposte non mi innamoro delle persone chi conosce la mia storia sa perfettamente che io sono sempre stato molto coerente anche quando tutti erano innamorati di un certo segretario io stavo da un'altra parte nel corso dei dieci anni dei dieci segretari che si sono succeduti in questi anni perché di questo parliamo qualche volto perso qualche volto vinto però sono rimasto coerentemente dentro questo partito con le mie idee con la mia voglia e quindi continuerò a stare in questo partito a dare il mio contributo attendo di capire meglio quelle che saranno le proposte di Bonaccini della Slein e ovviamente se ci saranno anche altre proposte in campo ancora non ho deciso vediamo cosa succederà nei prossimi giorni grazie grazie a Gianni Lorenzetti sindaco di Montignoso per essere stato con noi a Refresh grazie buona giornata buon lavoro grazie grazie a tutti e a presto allora torniamo invece alla prima pagina del quotidiano della Repubblica di Firenze l'appello del malato di sclerosi aiutatemi a morire a casa mia Massimiliano 44 anni faceva il manutentore sulla costa toscana ora lancia il suo messaggio attraverso l'associazione Luca Coscioni mi sento intrappolato in un corpo che non funziona più e poi sulla prima pagina la pala del verrocchio va in tour parte dagli uffizi la sua riscoperta e infine i numeri Rivoluzione Verde 393 progetti toscani con i soldi del PNRR ancora all'interno ovviamente del quotidiano della Repubblica la storia aiutatemi a morire a casa mia il disperato appello di Massimiliano vive in Toscana 44 anni da 6 soffre di sclerosi multipla si è rivolto all'associazione Luca Coscioni lanciando un video in cui appare insieme a suo padre mi sento intrappolato in un corpo che non funziona più una macchina rotta così ovviamente Repubblica su questa notizia che sicuramente non mancherà di far discutere e riflettere come è giusto che sia termina qua questo appuntamento di refresh per la giornata di oggi martedì 6 dicembre 2022 vi ricordo ovviamente gli appuntamenti con l'informazione alle 13 non vi perdete Toscana TG noi torniamo domani mattina puntuali a partire dalle 6 e 50 a tutti voi l'augurio di una buona giornata da Andrea Vignolini Ale grazie a tutti grazie a tutti